Grande giornata di calcio all'autismo oggi allo stadio di Nuova Accara, la mia associazione Atletico Stasatti ha organizzato appunto questa manifestazione per dare un calcio all'autismo, ho due casi di autismo nella mia associazione e una grandissima mamma ha insistito per fare questo triangolare, nonché una mia carissima qui a fianco Nadia, e ci tenga a sottolinearlo, è un bambino Francesco Pecorella autistico meraviglioso, senza di lui la mia associazione non sarebbe così forte, grande manifestazione oggi, poco faccio la pioggia, vediamo tutti qua, questo è sintomo di forza, giusto Nadia? Sì assolutamente, colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor che sono Decovia, Maldemone, Frenesia, Pizzeria Dinos, Gelateria Mazzara di Susanna Lamia, Macelleria Prenci e Fabrizio Carre, grande giornata di sport, adesso ci andiamo a fare il nostro triangolare, grazie a tutti. Grazie, grazie al mister Siracusa perché mi ha accolto veramente con entusiasmo questa iniziativa Calciamo l'autismo, ho voluto da tutti, tutti i partecipanti anche dal Trapani Calcio, dal Dribbling Marsala, che hanno voluto dare un segnale forte, cioè che lo sport deve essere per tutti, deve essere inclusivo, ma loro da soli non ce la possono fare, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno dell'amministrazione che dia una mano per questo sostegno, ma anche con figure assistenziali che dia e anche formati per questi ragazzi con autismo, perché non è semplice farli integrare in un gruppo di normodotati. Io ho il mio obiettivo e anche il mio augurio è quello di continuare a fare questo, di consentire a questi ragazzi di giocare, perché il gioco è la miglior terapia per loro ed è un'occasione per loro di sentirsi parte integrante della società e io non mollerò. Oggi c'era questa pioggia battente che ci ha quasi impedito di iniziare, ma non abbiamo mollato, loro sono dei campioni nello sport, ma soprattutto nella vita, perché non mollano neanche, e io prendo forza anche da loro, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e hanno voluto fortemente come me dare un segnale nonostante tutto, nonostante la situazione atmosferica. Io ringrazio veramente tutti di cuore.